Musica Ben trovati anche per la pagina sportiva del TG Noi, apertura dedicata al calcio alla Lucchese, già con la testa alla sfida di domenica a Porta Elisa contro il tutto cuoio. La classifica è migliorata ma attenzione a farsi prendere dall'entusiasmo eccessivo. Per uscire dalle zone difficili bisogna ancora lavorare a testa bassa. La Lucchese ha ripreso la preparazione in vista del prossimo impegno. Nemmeno il tempo di assaporare il prezioso pareggio di Ancona che la truppa guidata da Galderisi deve concentrarsi sulla sfida in programma al Porta Elisa contro una delle squadre più in forma del campionato come il tutto cuoio. Per la Lucchese, inutile dirlo, l'obiettivo è continuare sulla strada giusta già intrapresa. Dalle due sfide che precedono la sosta, tutto cuoio e poi trasferta a Reggio Emilia, ci vorrebbero almeno quattro punti. Bottino ideale per classifica e morale, in attesa che dal mercato arrivino quelle risposte invocate dai tifosi e non solo. Il direttore generale Galli è stato chiaro, lavoreremo con accortezza anche in fase di uscita. Insomma, da questa finestra di mercato non uscirà una Lucchese rivoluzionata, ma secondo le intenzioni dello staff tecnico sicuramente più competitiva. La Lucchese ricorda che sarà possibile acquistare il biglietto di prevendita per la partita fra Rosso Nero e Tutto Cuoio venerdì e sabato dalle 17 alle 19.30 presso la biglietteria in via dello stadio angolo Viale Marconi. Domenica sarà aperta anche la biglietteria di via Gramsci, lato gradinata, e i botteghini emetteranno i tagliandi a partire dalle 10 fino dall'inizio della gara. E adesso parliamo di una iniziativa promossa dal quotidiano La Nazione e da Noi TV, il referendum Oscar del talento che ritorna anche quest'anno. Cinque mesi di votazioni per eleggere il calciatore, lo sportivo e l'allenatore più amati della provincia di Lucca. Ritorna anche in questa stagione l'Oscar del talento, il referendum organizzato dalla Nazione in collaborazione con Noi TV dedicato ai giovani sportivi e ai loro tecnici. I primi tagliandi sono già stati pubblicati in questi giorni dal quotidiano lucchese e la simpatica gara andrà avanti fino al 17 maggio. Superare il record dello scorso anno non sarà facile. Nelle ultime due edizioni è stato veramente un crescendo inaspettato in maniera iperbolica. Io oserei dire diverse decine di migliaia di tagliandi. Su 100.000 io penso ci siamo arrivati senza problemi. Paolo Bottari, organizzatore del referendum, è stato ospite di Buongiorno con Noi e ha svelato i primi dettagli dei premi in paglio. Ovviamente la festa finale allo stadio Portelisa quando i ragazzi più votati parteciperanno ad un vero torneo nel teatro del calcio lucchese ma già a febbraio ci sarà una tappa intermedia importante. Avremo a disposizione un certo numero di biglietti per una partita che dovremo andare a vedere intorno a marzo-aprile. Infatti il concorso è fatto di più step, di più traguardi volanti. Il primo, quello che ci auguriamo possa dare anche subito uno sprint in partenza al concorso, è fissato per il 28 di febbraio. Noi chiuderemo parzialmente le classifiche al 28 di febbraio. I più votati sicuramente li porteremo a Torino. A questo punto non resta altro che raccogliere i tagliandi e inviarli alla redazione della Nazione. Parliamo adesso di atletica, di podismo. In maniera particolare il ritorno anche quest'anno, il 26 dicembre, la Coppa Santo Stefano lungo le strade di Vallecchia e di Pietrasanta, la 62esima edizione della manifestazione che la pone tra le gare podistiche più longeve in Italia. La gara regionale su strada, riconosciuta dalla Fidal, si correrà sulle distanze di 1,7 km, 4,7 e 6,2. Organizzazione a cura dell'atletica Pietrasanta-Versiglia e dell'arci polisportiva versigliese, con il patrocinio del Comune. Correranno tantissime categorie, dai ragazzi, classe 2001-2002, fino agli over 60. E adesso il basket giovanile, successi importanti per le formazioni del centro minibasket junior. L'Under-19, elite di coach Piazza, espugna Piombino e tiene il passo del gruppo di testa. Vince in trasferta anche l'Under-17 eccellenza, targato Lombardi di coach referendario, che supera Prato e rimane in corsa per il passaggio del turno. Sconfitta, casalinga, invece, per l'Under-15 eccellenza di coach Chiarello, di fronte al basket Cecina, mentre vincono nettamente gli under-14 di coach Corda all'Etrusca San Mignato e gli under-13 di Franchi sul campo del Cefa Castelnuovo. È tutto per la pagina sportiva del TG Noi, una breve pausa pubblicitaria e poi la terza parte del telegiornale.